Oggi abbiamo aperto il festival dell'area Controvento nella cava di Giuliano Giuliani un artista internazionale del nostro territorio e con il quale stiamo facendo molti progetti e adesso stiamo a Colle San Giacomo con tutti gli aviloni che volano in area e con molti bambini, molte famiglie e quindi un festival iniziato molto bene quindi con questo festival dell'area vogliamo valorizzare anche l'aspetto spirituale quindi mettendo la persona al centro, lavorando sulla stimolazione dell'anima delle persone in un valore comunitario, non di città ma di territorio quindi abbiamo lanciato anche il progetto Ascoli Città Metromontana il capologo che si prende cura dalla montagna al mare e quindi valorizzando la persona stessa mettendo al centro del processo il capitale umano